Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. Dopo il loro matrimonio da sogno in Toscana, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si stanno godendo una lunga luna di miele in Sardegna. Durante questo periodo di relax, Cecilia ha deciso di fare uno scherzo a Ignazio per vendicarsi dei tanti scherzi subiti nei sette anni trascorsi insieme. Da quando si sono conosciuti nella casa del GF VIP. Tuttavia, il suo piano non è andato come previsto. Ignazio si è spaventato talmente tanto che ha colpito Cecilia, facendola cadere a terra. Nella cucina della grande villa con piscina che hanno affittato per l'estate, Cecilia ha sorpreso Ignazio alle spalle. La reazione di Moser è stata istintiva e ha colpito la moglie. Subito dopo, preoccupato, Ignazio ha chiesto se le avesse fatto male, a cui Cecilia ha risposto ridendo, sì, un poco. Passato lo spavento, la Rodriguez ha condiviso il video su Instagram. Scherzando sul fatto che è stato lo spavento più bello degli ultimi sette anni e promettendo vendetta da parte di Ignazio, che ha dichiarato, la pagherà cara la nostra Checu. La pagherà molto cara.